Freddo! Vieni qua, vieni, vieni! Oh, stasera... Eh? Trombo! Dai! Sì, vabbè, freddo, te stasera tromba. Però io prendo tre porchette. Io sono stanco di questi giochi. O forse, scusate, giochi. Se giocassimo... A tobola? Eh, ma... Ci servono... I dati per giocare. Scusa, volevi dire... I tadi? Che stai facendo, un fischio? Un fiscio? Nico, che hai fatto? Eh, mi sono fatto male al ginocchio. Al ginocchio? Sì, allora ho preso la polsiera. Ma perché polsiera elastica? Per il ginocchio. Ma il set completo da ping-pong. A mia ragazza ho comprato dei giolelli. Cosa? Sì, li mettiamo al portagioveni. Oh, Nico. Sì? Senti come... Profuma. Come? Profuma. Ma compriamo un bel biciere. Sì, ma lui non sembra essere d'accordo. Prendiamo un bel portacandere? No, no. Mi voglio. Prendiamo un portacandella. Io da piccolo giocavo a forza 4 e invece adesso in fila per. Direttura in latino. Nico, prendi questa. Oddio no, è stupenda. Che stai facendo? Guarda, ho i basoncini. I basoncini? Sì. E c'ho... Che? Che è? Ah, dei sassilini. Eh, però per decorazione. Ah, sì. Venacca. La carne du polo. Tieni, padrone. Guarda. Che c'è? Compra anche tu pietra decorativa. La pietra. Gli avi esagonali. Gli avi. Un cacciavite. Eh no, qui abbiamo solo i cacciavati. Ma Freddo, Freddo, la cernira. Un bel lachetto. No, ma che? Guarda qua. Luchetto. Luchetto. Eh, no, però... Ah, luchetta. Freddo, che stai facendo? Eh, la fochetta. Solo i calciatori migliori usano i... Goltelli. Cucuiai? Eh, adesso ti spiego a dirlo. Cucu... Cucu... Cucuiai. Cucuiai. Freddo, c'è una ragazza mia che mi ha detto a buttare in un burrone. Allora, tu devi rifà così. Sei matta. Poi c'è un raffreddore. E allora? Mi ha sa che compro... I fazzolitti. Freddo, che dici? La prendo? È pilla. È pilla.